Abbiamo un collegamento con il segretario della UIL di Reggio Calabria, Nuccio Azzarà, che ha sotto controllo la situazione, perché sta lì. Prego, Nuccio, ci siamo? Niente, io mi sento di dire che intanto non è che si possa vivere nella speranza che non succeda niente, perché il problema è proprio invece di ordine organizzativo. Per esempio, bisogna pensare, contestualizzare il tutto all'interno di quello che è la situazione. Cioè, noi abbiamo un'azienda sanitaria provinciale che sovrintende la sicurezza e la salute pubblica, un'azienda che è stata considerata l'azienda più disastrata d'Europa, un'azienda che è stata sciolta per motivi di mafia, di indrangheta, di infiltrazione mafiosa. Quindi, con un'azienda che ha raccolto nel tempo un debito di circa un miliardo di euro, a sovrintendere questo tipo di organizzazione, abbiamo dei commissari prefettizi, abbiamo dei commissari prefettizi che addirittura sono arrivati a deliberarsi, ad autorizzarsi la non presenza all'interno dell'azienda. Fermo, fermo, Nuccio, fermo, siamo chiari. Cioè, nel momento drammatico, dove il comandante non fa come Schettino che abbandona la nave, ma deve rimanere fino all'ultimo, lei mi sta dicendo che i tre commissari non sono a Reggio. Dove sono? Allora, penso che sono nelle loro abitazioni, mentre noi abbiamo esempi di altri commissari, di altre aziende che da 15 giorni non si muovono addirittura da Reggio. Ma dove, scusi, ma in quali abitazioni? Perché uno mi sembra non sia neanche calabrese. Dove vuol dire che è andato... Non credo che siano tutte e tre calabresi. Quindi sono fuori da... cioè lontani a centinaia di chilometri. Quello che ci risulta è che manchino proprio dalla postazione e dal comando delle loro postazioni. Ha fatto una delibera la 147 del 16 marzo di alcuni giorni fa, attraverso la quale loro, in piena emergenza Covid, hanno dato la disposizione della firma degli atti, addirittura non più collegiale, ma uno alla volta. Se fosse così, io prendo atto di quello che sta dicendo, se fosse così, Sileri è un atto, secondo me, molto complesso, addirittura scandaloso. Perché che esempio diamo? Questi signori che fanno i commissari, se è così, forse dovrebbero avere il coraggio di essere presi e spostati da qualche altra parte, senza stipendi. Questo dovrebbe essere. Se è così, se è così... Questi sono uomini dello Stato, uomini dello Stato che abbandonano le loro postazioni, perché se di guerra si parla, praticamente loro hanno abbandonato i posti di comando, nel momento in cui i soldati stanno combattendo una battaglia senza disarmati. Allora, ognuno si assume la responsabilità di quello che dice. Se così fosse, io lo trovo molto grave.